Ciao a tutti, noi si iniziamo qui in un nuovo video. Questo è un altro video aggiornamento. È un video aggiornamento non solo sulle LOL Surprise, perché sono uscite nuove immagini dei nuovi pets, fuzzy pets, ma è anche un video aggiornamento sulle Hairdorables, perché qualcuno di voi mi ha richiesto un video aggiornamento anche su di loro e questo è capitato a fagiolo proprio perché è appena stata rivelata la seconda serie delle Hairdorables e sono davvero davvero carine. Quindi vi faccio vedere un po' la checklist e alcune delle immagini. Prima di cominciare, come al solito, vi chiedo se vi va di lasciare un like, di iscrivervi al canale, di partecipare ai miei giveaway e dirmi nei commenti se vi piacciono questo genere di video e se vi è utile appunto questa sorta di video aggiornamento. E quindi direi subito di andare ad incominciare. Ecco qui il primo, questo è il primo pets che andiamo a vedere, incominciamo con i pets e poi andiamo alle Hairdorables. Questo qua appunto è ricoperto ancora di pelo, poi qua sempre prese dal canale di Abris World ovviamente, quindi se volete andare a vedere l'unboxing completo lo trovate sul suo canale. Qua appunto lo sta lavando piano piano, già avrete capito di chi si tratta e quindi ecco a voi la foto completa. È adorabile, è tipo una sorta di colomba, una sorta di colomba appunto di Go Go Girl, veramente carinissimo, mi piace un sacco. Poi secondo pets è questo qua, sempre ricoperto di pelo, ha trovato uno dei rari glitterati di Glitter Queen appunto e quindi c'è Glitter Queen e Lil Glitter Queen. Questo trovo che sia uno dei più carini, almeno secondo me. Guardate com'è carino, eccolo qua, ha i colori molto molto vivaci e niente, mi piace molto, è molto carino, elegante e ovviamente è un barboncino, quindi io adoro i barboncini, ditemi se piacciono anche a voi. Poi andiamo con un terzo petz, è questo qua, vediamo se indovinate di chi si tratta, scrivetelo nei commenti. Qua stampa, molto carino anche questo. Appunto si sono attrezzati con una spadolina perché togliere il pelo è un pochino faticoso magari, perché non viene via subito se lo immergete, ma dovete sfregare un po'. Quindi insomma, però è carino comunque come gioco. Poi questo è un altro petz, eccolo qua, il quarto di questo video e questo è il pelo blu, però dopo vi faccio vedere una cosa, ho scoperto che il pelo non è sempre uguale per i petz e questo è il cavallo, il pony di Hair Majesty, se non sbaglio si chiama, insomma è l'ultima serie delle Hair Goals, molto carino anche con le lentiggini, mi piace veramente tanto questo. E poi altri petz, stavolta li ha aperti tutti insieme, quello lì come vedete ha il pelo rosa, quello nel mezzo, ed è sempre, ha trovato un doppio, è sempre il pony di Hair Majesty. Quindi come vedete il pelo cambia, è differente da pet a pet, anche se sono uguali, insomma vi capitano con pelo diverso. E questi poi sono appunto i quattro che apre tutti insieme. E queste sono le immagini, abbiamo, eccoli qua, allora un gufetto, un procione, un raccoon insomma, e il pony di Majesty appunto. Il gufetto dovrebbe essere di Yin BB, è veramente carinissimo, ma anche gli altri comunque, però il pony forse è il mio preferito. E poi abbiamo il gattino che dovrebbe appartenere a Miss Jive, sempre dell'ultima serie delle Hair Goals. Quindi queste sono tutte le nuove immagini dei petz lol surprise. Adesso direi invece di andare ad illustrarvi la nuova serie, la seconda serie delle Hair Dorables. Le scatole innanzitutto sono diventate rosa, non più viola, come vedete qua. Questi sono dei kit che sono stati inviati a delle youtuber americane, da noi no ovviamente perché non sono mai arrivate in Italia. Spero che qualcuno le importi, comunque in caso le trovate su Amazon, sia com che it, ancora no, però tra un po' le troverete. Queste sono le prime due, sono le due versioni nuove di Noa, cioè Insta Noa, che dopo vi faccio vedere l'immagine, e On The Go Noa. E ho visto che, queste sono carine, però niente di particolare secondo me. Ho visto che appunto c'è una delle due versioni che è sempre ultra rara. Abbiamo Freestyle in Bella e Breakdance Bella, e sono appunto sempre ballerina, però in nuove versioni, Freestyle e Breakdance. E come vedete è sempre una delle due versioni che è ultra rara, e sono quasi tutte in due versioni, stavolta, tranne due che dopo vedremo, che sono tre. Poi abbiamo DD, Cotton Candy DD e Delightful DD, sempre cuoca, pasticcera diciamo. E niente, è molto carina, credo di preferire la versione non ultra rara però in questo caso. Sempre comunque molto carina in tutti i casi. Ditemi poi qual è la vostra preferita tra queste. Abbiamo poi Sully, che mi piacerebbe un sacco trovare. Abbiamo pure qua, allora, Sully Sketches e Designed by Sully, e quindi sempre che fa schizzi, diciamo, sketch a matita, e questa mi piacerebbe tantissimo trovarla. E poi c'è l'altra versione col grembiolino, sempre pittrice, molto molto carina e un fiocco gigante. Poi abbiamo Cat, troppo carina la versione ultra rara, guardate, ha la borsetta a forma di gatto, le orecchie a gatto, è troppo troppo carina. E abbiamo quindi Cool Cat e Catastic, veramente molto carina in entrambe le versioni, ma forse preferisco qua la ultra rara, mentre l'altra ha una mollettina, sempre mi sa, a gatto. Molto carina comunque anche questa. Poi abbiamo due delle mie preferite, che sono Rainy, due versioni di Rainy. Abbiamo allora la Pineapple Rainy, che ha appunto gli occhiali a pineapple, a frutto, insomma. E poi abbiamo l'altra che è Rainy Festival, con addirittura un cagnolino fatto con i palloncini, che è adorabile, però sempre una ultra rara, quindi sarà più difficile trovarla. Poi abbiamo Cali, che è Keyboard Cali e Magnetic Cali. Queste due versioni non so se mi fanno impazzire, dovrei vederle dal vivo. Forse quella delle due che preferisco è la Magnetic Cali, che ha questo, cioè, tipo, cuffie e iPod, credo che abbia. Il vestito non riesco a capire molto bene, perché sono ancora piccole le immagini, però carina. Poi c'è Brit, che hanno cambiato i suoi capelli e secondo me hanno fatto bene, perché Brit, le versioni Brit purtroppo non piacevano nella prima versione, ma ora con i capelli rosa sicuramente piaceranno a tutti. E c'è Cheer Brit e Butter Up Brit, che appunto sono sempre due versioni sportive. Poi c'è Naila, pure questa super bella, Night Sky Naila, che è stupenda, sempre però ultra rara, e poi c'è Firefly Naila. Carine entrambe, però forse preferisco la Naila nella prima serie, però pure quale devo vedere dal vivo perché non mi rendo conto bene dei vestiti. Poi abbiamo Skylar. Skylar, devo dire, non mi fa impazzire in queste due versioni, cioè non mi so niente di che. C'è Global Skylar e Touring Skylar, che è vestita un po' da spagnola, che è carina, direi, cioè alla fine questa è la versione più carina, mentre la Global Skylar, boh, non mi sa niente di che, però pure queste devo vederle dal vivo. Ora arriviamo a quelle che hanno tre versioni e sono la Willow, che è la mia preferita in assoluto. Nella prima serie gli hanno dato l'unicorno e qui gli hanno dato la versione Sirena, quindi troppo bella. Abbiamo la, non so come chiamarla, la Hyper Rara, che è la Sea Willow e è stupenda e ora ve la faccio vedere tra poco. Poi Fishtail Willow e Water Willow, tutte e tre molto belle, devo dire. E poi l'ultima è Harmony, la musicista con tre versioni, Open Mic Harmony, Singalong Harmony e Harmonic Harmony. Molto belle tutte e tre le versioni e, devo dire, sembrano un po' rifarsi allo stile dei musicisti anni 60-70, almeno questo mi sembra, anche anni 80, diciamo, dai, fino agli anni 80. Molto carina comunque. Ora vi faccio vedere qualche foto. Allora, questa è lei, è Rainy, molto molto carina. Devo dire, mi piace un sacco. Questa è la versione con le cuffie a arcobaleno, i pattini e il cagnolino fatto a palloncini. Veramente adorabile, mi piace tantissimo. Ditemi se piace anche a voi. E niente, la trovo molto carina. Quelle con la bocca così chiusa sono le versioni, le espressioni che mi piacciono di più, devo dire. Poi c'è quest'altra, che è Noa On The Go e anche lei molto carina, sempre pure lei con le cuffiette. Niente di eccezionale comunque, cioè, non è un design che trovo, insomma, particolarmente accattivante o che voglio in particolare. È carina, però niente di straordinario. Poi abbiamo Didi, che è fantastica, con questo cappellino, il grembiolino, è veramente adorabile. Poi con la frangetta che nella prima serie non avevano mai fatto. E Neila, che è carina, pure questa, però trovo che la mia versione mi piaccia di più, cioè quella che ho trovato io mi piaccia di più della prima serie. E allora, come vedete, molte di loro, la nuova cosa è che i loro oggetti cambiano colore, pure qua in acqua calda o acqua fredda, come un po' fanno anche le lol, insomma. Questo, per esempio, è il frustino per girare le uova di Didi, che cambia colore e diventa viola. Questi sono, questo è uno degli sfondi nuovi che si possono trovare e è un negozio di dolci, cioè è adorabile. E quello della iper rara è praticamente quello, è tutto olografico, molto molto bello. Questa è la iper rara, o ultra rara, non so come si chiama, però insomma è quella più rara di tutte. Ed è questa versione appunto a sirena, con il vestito olografico e ha anche i tinsel nei capelli. E poi ha, niente, tutte queste decorazioni, anche sul viso, che sono stupende, la collana e la corona che cambiano colore. Poi c'è quest'altra versione di Noah, che è quella con le treccine, eppure questa niente di particolare. Mi piace giusto il cappellino, che veramente sembra un cappellino di lana, molto carino. E queste ve le rifaccio vedere. Eccole qua. Poi gli hanno mandato qua, come nel set, questa base in cui se le mettono lì, parte la musica, insomma, carino, sì, però niente di particolarmente utile. Questo è quanto. Devo dire che la seconda serie delle Air Dorables mi fa ben sperare. Spero insomma di trovarla presto e ve ne aprirò sicuramente una sul canale. Molto molto carine, devo dire. E fatemi sapere però che ne pensate di queste e dei Fuzzy Pets. E quali sono i vostri preferiti dell'una e dell'altra serie. Se questo video vi è piaciuto, come al solito, vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale, partecipare al mio giveaway. E niente, restate sintonizzati per i prossimi video, mi raccomando, perché YouTube non manda le notifiche, quindi mettete tanti like e tanti commenti quando potete. Tanto io posto quasi tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, di solito. Ci vediamo presto, vi mando un grosso bacione e alla prossima. Ciao!